Adesso bisogna guardare al rilancio e alla ripresa economica, promuovendo da un lato misure destinate alle imprese e dall'altro favorendo quel meccanismo di leva che la grande campagna di investimenti ha promosso. Il futuro va indirizzato verso un rafforzamento patrimoniale delle imprese, una semplificazione che renda più semplice l'attività delle aziende, una transizione digitale, innovazione green economy. Grazie.